Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Siamo Emilio che ci ha tenuto compagnia fino a questo istante, adesso sabato 8 di ottobre 2016 inizia ufficialmente lo speciale Napoli appunto di oggi insieme agli amici in filodiffusione di Radio Eva Napoletana che salutiamo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buongiorno chiaramente a tutti i radioascoltatori di Radio Potenza Centrale. Quest'oggi abbiamo da presentarvi una voce molto morbida, lo abbiamo detto diciamo così in privato, forse non è il termine giusto tecnicamente però va bene, va bene così. Allora buongiorno anche a Nicola Galante. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Eva, la Napoletana e Radio Potenza Centrale e finalmente abbiamo il nostro artista insomma qui nei nostri studi di Radio Eva, Radio Potenza Centrale, direttore. Benissimo, allora Nicola Galante ovviamente è una vecchia conoscenza della radio con la event coordinator, coordina diciamo così tutti questi artisti che sono emergenti e non e quest'oggi ha consigliato a noi della radio proprio quest'artista perché ci tiene insomma farlo conoscere a tutti quanti i nostri radioascoltatori, giusto? Giusto giusto, voglio mandare anche un grande saluto e un abbraccio che è qua insomma a fianco a noi dietro le quinte a Roberto Russo, al papà di Daniel e niente noi siamo onorati anche perché il ragazzo qua è ormai più di un mese che sta in promozioni e sta avendo veramente dei grandi, sta facendo dei grossi passi insomma con noi, alla grande. Eccoci allora presentiamolo ai microfoni di Radio Potenza Centrale e Radio Eva Napoletana, buongiorno a Daniel Marino. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Potenza Centrale. Buongiorno, buongiorno. Bene, allora caro Daniel insomma sappiamo bene noi la tua storia artistica, sappiamo la tua voglia diciamo così di farti sentire, di farti conoscere anche e soprattutto qui nel Sud Italia però insomma presentiamoci un po' i radioascoltatori quindi parliamo un po' di chi è Daniel Marino, da dove nasce, quali sono gli obiettivi, insomma spiegaci un po'. Sì, allora io sono nato a Melfi in provincia di Potenza quindi saluto tutti i miei compaesani, prendi tutto e abito da circa 12 anni a Pescara dove sto andando a scuola, sto cantando da molte parti, Montsilvano, Silvi e insomma. Bene, ovviamente il genere che viene trattato insomma da Daniel Marino è proprio un genere neomelodico insomma. Sì. Bene e diciamolo anche, la tua età dobbiamo scoprirla perché l'artista non deve avere segreti quindi è importante dirlo perché questo insomma sicuramente è un grande slancio per la carriera. Io ho 18 anni. Benissimo, quindi per tutti i nostri radioascoltatori Daniel Marino ha 18 anni appunto vuole far sentire le sue canzoni, da quanto tempo strimpelli musica e canti? Allora il tempo è poco diciamo perché per un cantante il tempo non è mai, io canto da circa 3 anni diciamo. Benissimo, quindi dall'età di 15 anni hai iniziato diciamo a nascere dentro di te questa passione e poi diciamo che la possiamo considerare come se fosse una droga insomma non riesci a staccarti mai dalla musica. La musica è passione, quando la musica ce l'hai dentro è una cosa indescrivibile. Bene, allora Daniel quest'oggi staremo insomma un'oretta insieme fino alle ore 13 circa, minuto più minuto meno, vogliamo chiaramente presentare anche quello che è il tuo lavoro discografico. Quindi un lavoro che si compone diciamo così di 8 canzoni, di 8 singoli, che cosa raccontano questi singoli? Allora sono 8 singoli, con gli arrangiamenti del grande Antonio Viscovo, le mando un grande braccio, molte canzoni sono state scritte da me, quindi è un piacere presentarvi anche canzoni fatte da me. Benissimo, quindi diciamo in questo lavoro sei autore o diciamo interprete. La canzone che in questo momento diciamo qui su Radio Potenza Centrale sta suonando di più, diciamo che siamo un po' in pole position, stavo vedendo qui sui nostri contatori, sono in pole position, vivo per amarti ancora, non cagni mai, con osfizie una mezz'ora, non so se è anche quella diciamo la tendenza del successo che stai avendo. Sì, vivo per amarti ancora infatti è un brano scritto e arrangiato da me. Benissimo, allora nelle canzoni di Daniel Marino come dicevamo ovviamente lo si può capire e anche dai titoli si diciamo parla dell'amore, si parla delle storie quotidiane che accadono a ognuno di noi, anche fra giovani e meno giovani e quant'altro. E quindi quest'oggi andremo a conoscere un po' questo lavoro discografico perché Daniel Marino appunto è presente già qui su Radio Potenza Centrale, su Radio Eva Napoletana, però insomma con un live andiamo a completare diciamo così la conoscenza, andiamo a sapere quanti anni tieni, che numero di scarpe porti. Sto scherzando, chiaramente siamo in radio si scherza un po' e a questo punto io direi subito per i nostri ascoltatori che possono interagire con noi tramite la messaggeria al 349 511 90 88, ripeto 349 511 90 88, stanno già arrivando i primi messaggi, li facciamo magari un po' raccogliere. Io direi di ascoltare proprio una tua canzone, quindi decidi tu, visto che insomma sei l'autore di questo lavoro discografico, con quale vogliamo iniziare. Allora visto che è Vivo per amarti ancora è in poll ed è anche il mio album si intitola Vivo per amarti ancora perché è una canzone molto bella che mi rappresenta anche diciamo, vogliamo farti ascoltare. Vivo per amarti ancora, va bene, allora l'ascoltiamo con grande piacere, presentiamo i nostri radioascoltatori Daniel Marino, qui siamo in diretta live e ovviamente insomma abbiamo la possibilità in questo spazio, in questa oretta di farvi conoscere questo artista che sicuramente farà parlare molto di sé. Quindi suoniamo Vivo per amarti ancora, ok, e l'ascoltiamo, ci sentiamo proprio fra pochissimo. Vivo per amarti ancora, ok, e l'ascoltiamo. 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 Vivo per amarti ancora, ok. Vivo per amarti ancora, ok, e l'ascoltiamo. 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 Vivo per amarti ancora, ok. Che dall'ascoltiamo, come l'ascoltiamo. E l'ascoltiamo. Vivo per amarti ancora, ok. Grazie a tutti. 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 Buonusfizzi e una mezz'ora. Buonusfizzi e una mezz'ora. Buonusfizzi e una mezz'ora. Grazie a tutti. 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 Cucine su misura complete di elettrodomestici, soggiorni, divani, complementi d'arredo, camere da letto, camerette e tanto altro ancora. Consulenti esperti per suggerirvi le soluzioni d'arredo in modo da realizzare una casa personalizzata, funzionale, accogliente. Capito all'arredamenti. Nuova sede nella zona PIP di Tito Scalo. Info 0971 48 58 80. Mamma, papà, il compleanno che ho sempre sognato! Parco Giochi Boom Boom. Divertimento per tutta la famiglia. Tutti i giorni a Tito Scalo. 0971 65 12 87. Parco Giochi. Confiabili. Ristorante. Cartodromo. Playground. Legolandia. Evviva Boom Boom! Autonoleggio Hertz. Scegli tra la vasta gamma di auto quella più adatta alle tue esigenze e prenota subito. Hertz propone da sempre eccezionali tariffe ed offerte speciali per il noleggio di auto e furgoni. Per info contatta l'Agenzia di Potenza allo 0971 47 32 58 o visita il sito hertz.it. Hertz. Un mondo di novità. Per la tua uva da vino vieni alla Casa del Melone di Capece Donato e Figlio. A Potenza nei pressi del nodo viario di Galitello e a Tito sulla strada statale a 200 metri dallo svincolo sulla destra. Seguire indicazioni in grosso frutta. Troverai tante qualità di uva fra cui aglianico di Barile, Montepulciano d'Abruzzo certificato con documento di trasporto e malvasia bianca. Si effettua su richiesta e gratuitamente macinatura nella tua cantina. La Casa del Melone di Capece Donato e Figlio. Info al 333 60 26 010. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Sbatti la porta in fretta e corri via Neanche il tempo di un saluto Neanche il tempo di un saluto Neanche il tempo di abbracciare Perché c'è lui che spetta gase Isse d'evole v'e fa mure E tu da me v'i n'a n'shpugat L'eva t'e rige se si kose Ogni urne n'a n'a n'shkuse Per non v'e fa l'ansan Ho difendo sempre come gli amici mie Ma non sapo che ho posto su Ogni notte pure se stai Io vorrei immaginare cosa fai Ti vuole chiamare Ma non so se parlerai Ma non è così che doveva andare Quante cose non ti ho detto Lui ti fa soltanto male Se il suo voce non sa che seguo chi lo l'ha Ti la vado tessere Con agia voglio ne fa ancora cià E mi chiamo dicendo Non so se la sa Tenga instintamente E non lo poti da anche la E'ncarte mora Mora t'evanta Cum vor mai zis Se resta mora Per non v'e fa l'ansan Per non v'e fa l'ansan E'ncarte mora E'ncarte mora E'ncarte mora E'ncarte mora Io vorrei immaginare cosa fai Ti vuole chiamare Ma non so se parlerai Ma non è così che doveva andare Quante cose non ti ho detto Lui ti fa soltanto male Se il suo voce non sa che seguo chi lo l'ha Ti la vado tessere Con agia voglio ne fa ancora cià E'ncarte mora Dicendo non so se la sa Tenga instintamente E non lo poti da anche la E'ncarte mora Mora t'evanta E'ncarte mora Provo ad immaginare con Daniel Marino Che canta l'amore questa mattina qui Sulle nostre frequenze Quelle di Radio Potenza Centrale Radio Eva Napoletana Siamo in diretta live In questo speciale Napoli E ovviamente la musica neomelodica La fa da padrona in questo spazio Allora Daniel Siamo arrivati già alle 12.42 Il tempo passa proprio Inesorabile e veloce Però dobbiamo leggere un po' di messaggi Dare soddisfazione ovviamente anche ai nostri ascoltatori Che ci scrivono Dicono bravissimo Daniel Marino Fateci sentire Provo ad immaginare Da Rosanna da Melfi E' appena Diciamo così Andata in onda Quindi l'abbiamo anticipata Questa bella canzone Ciao Daniel La truppa di Melfi è con te Ok? Un saluto a tutta la truppa di Melfi Mi segue sempre Benissimo E poi ancora da Venosa L'amica Deborah Dice Daniel sei grande E ora vorrei ascoltare San Valentino A questo punto vorrei anche appunto dire Che Daniel interpreta anche canzoni di grandi big Della musica napoletana In questo caso se non sbaglio Era una canzone di Gianni Celeste Sì Bene Quindi cara Deborah Vediamo un attimino Quest'oggi stiamo presentando il lavoro discografico Quindi non so se possiamo accontentarti Però ti salutiamo davvero con un abbraccio Buongiorno a Daniel Daniel Marino Ti saluto da Melfi Belle le tue canzoni Sei bravissimo Da Gianna di Melfi Poi ancora Arrivano messaggi anche da altre latitudini Buongiorno Antonio Volevo fare i complimenti a Daniel Bravissimo E un saluto a voi Sono Maria di Acquaviva delle Fonti Siamo in provincia di Bari Quindi salutiamo gli amici della provincia di Bari E ancora Ciao Daniel Sì Melfi è con te Ancora complimenti E insomma ci sono tanti apprezzamenti Bellissime Una più bella dell'altra Sapere Poi ci chiamano pure ma non possiamo rispondere Sapere che lui A scriverle è ancora più interessante A questa età è difficile Saper scrivere Cantare e trasmettere Quello che si prova In grado di fare tutto questo Quindi grande Un artista completo E oltre a essere anche un bellissimo ragazzo Grazie Grazie È vero Sono geloso Sono invidioso direttore Mi sta rubando la scena Mi sta rubando Non è giusto però Non è giusto Sto scherzando Allora visco su questo messaggio direttore Volevo dire una cosa a favore di Daniel Proprio in questo momento abbiamo ricevuto Una telefonata del nostro amico Carmelo Federico del Papano Che è insomma un cantante che sta in promozione da noi Lavora con noi Insomma Carmelo è un grande artista di Palermo Dove ciò che ho chiesto anche io Insomma Stendendo la voce di Daniel Marino Ha detto Cazzo Scusate il termine È bravo Ha detto proprio Non l'ho detto io L'ha detto questo È bravissimo Ha detto Vorrei fare un duetto insieme Allora io gli ho proposto Facciamo un duetto di una bella canzone Di Natale Di Natale E allora Lui scriverà una canzone Che la canterà insieme a Carmelo Federico E la farà proprio a Radio Potenza Centrale Benissimo Va bene Allora queste sono tutte anticipazioni Che poi vengono idee che vengono in diretta E che poi svilupperemo Antonio per cortesia Fatemi sapere di preciso Quando venite a Taranto A fine mese di novembre Così vi vengo a trovare E a sentire appunto Cantare Daniel Marino Va bene Ok Quindi già insomma lo vogliono I nostri amici Bravo Daniel Complimenti Questo è un altro messaggio E poi dobbiamo salutare anche Clarissa Che voleva appunto farti i complimenti Daniel sono Maria Luisa da Melfi Benvenuto nel tuo paese nativo È un orgoglio per noi sentirti Sei sempre più bravo Bravo Complimenti Un bacio Grazie Grazie a tutti È una soddisfazione È una grande soddisfazione C'è per tutti questi messaggi E complimenti Sei bravissimo Continua così Da Lucia da Melfi Beh insomma L'orgoglio melfitano Si è svegliato Eh sì Ma è vero però È una cosa vera Perché veramente C'è una voce stupenda Sto ragazzo Ecco ricordiamo anche Per tutti coloro Che stanno ascoltando Questa diretta live Che Daniel Marino Può essere raggiunto Su Facebook Alle sue pagine Che sono Allora C'è il mio profilo normale Che è Daniel Marino E poi la mia pagina ufficiale Che è Daniel Marino FB Page Bene Poi ancora Contattare Il suo manager Al 327 88 12 136 Ripeto 327 88 12 136 O anche L'event coordinator L'amico Nicola Galante Che ovviamente Si metterà subito A disposizione Per voi E insomma Stiamo presentando Questo Lavoro discografico Che porta il titolo Vivo per amarti ancora Sono otto I singoli Non avremo il tempo Di ascoltarli tutti Però alcuni si E quindi Continuate ad avere Attenzione Verso l'apparecchio radiofonico Perché adesso È il momento Di presentare Quale canzone Volevi far ascoltare Io voglio far ascoltare Ora Voglio far ascoltare Nunca Agne Mai Ok Nunca Agne Mai Con Daniel Marino E ovviamente Ricordo Che siamo in diretta live Quindi ricordo Che se volete inviare messaggi Potete farlo Al 349 511 9088 Fatelo subito Perché come abbiamo detto Il tempo passa Siamo quasi alle ore 13 E non ce ne siamo neanche accorti Siamo quasi alle ore 13 Siamo quasi alle ore 13 Grazie a tutti. 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 Tu si, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.